BOOM! C'è entrato! Il giochino è un bel mestiere È competitivo, si sta all'aperto e di certo non morirai di fame Perché da che mondo è mondo finché rimarranno almeno due persone sul pianeta Qualcuno vorrà qualcun altro morto Wow Sì, sì io sono un... No papà non sono un malato d'armi, sono un assassino La differenza è che uno è un lavoro, l'altro ha una malattia mentale Sarò onesto con te, ai miei genitori non importa Penso mi abbia visto Sì, mi sa di sì! Sentimenti? Ascolta amico, sai che ha molti sentimenti? Quelli che massacrano le loro mogli con un trofeo di golf I professionisti hanno degli standard Essere educati Essere efficienti Avere un piano per uccidere chiunque ti si pari davanti Pa... Papà, passa Passami mamma Avere un piano per uccidere chiunque ti si pari davanti